Il corpo ha bisogno di riposo, la mente ha bisogno di pace, e il cuore ha bisogno di zoia. Quanto sono belle le persone serene, da loro non c'è mai da guardarsi le spalle, perché chi sta bene con se stesso, non fa mai male agli altri. Sai, bisognerebbe mettersi un po' più spesso nei panni degli altri, e chiedersi se fossi io al posto suo, ci renderebbe tutte persone migliori. C'è chi ha tutto, e piange per una cosa che non è riuscito ad ottenere, e c'è chi non ha nulla, ma sorride, e ringrazia ogni giorno per la cosa più preciosa che ha, la vita. Amati tu, che gli altri hanno da fare. Lasci stare, non sei bravo. Se lasci stare, non sarò mai bravo. Basta una persona sbagliata, una sola, per non fidarsi più. Non contare su nessuno, non appoggiarti mai troppo a qualcuno. Sono tutti bravi a dirti io ci sono, ma sono veramente pochi quelli che lo fanno fino in fondo, costantemente, e sinceramente. La stanchezza mentale è molto peggio di quella fisica. Sai una cosa? La differenza la fa. Chi ci è accanto quando siamo al buio? Con il sole sono bravi tutti. Il bello delle persone false è, che una volta che le scopri, si allontanano da sole. Grazie mille per restare con JustFan1, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, grazie, restate bene.